Serata di beneficenza a Manfria questa sera dedicata ad una bambina che è stata sfortunata ma che con l'aiuto di tutti noi può avere una vita migliore di quella che si prospetterebbe. Allora, intanto sì, abbiamo conosciuto più da vicino Naomi, la mamma e la famiglia di Naomi e quindi ci hanno coinvolto perché la bambina è dolcissima, è proprio bello avere Naomi tra noi e il suo sorriso. E abbiamo pensato comunque noi come amici di Aurora, amici di Naomi, abbiamo pensato di organizzare una serata proprio per raccogliere dei fondi, per aiutare la famiglia perché comunque sappiamo benissimo che purtroppo... Bisogna sostenere delle spese, per cui stasera l'appuntamento è a Manfria, per esso il Campo Marinetti, lo ricordiamo, ci sarà lo spettacolo del Teatro Antidoto e per contribuire sarà sufficiente un'offerta libera. Sì, un'offerta libera naturalmente, quindi convidiamo intanto nella numerosa partecipazione e nel buon cuore sicuramente della gente. Naomi rimase vittima di un incidente domestico che le ha determinato delle gravi conseguenze, però con l'aiuto di tutti si può cercare di migliorare le condizioni della bambina perché sottoposta a terapia risponde. Certo, assolutamente, si può migliorare la qualità di vita di questi bambini, è ovvio che rimarrà invalida, Naomi è una bimba invalida al 100%, però insomma assolutamente. E queste cure per lo più vengono effettuate fuori dall'Italia, questo bisogna dirlo? Certo, queste in particolare vengono fatte in un centro neuro-riabilitativo, si chiama Adeli, è in Slovacchia. Io vado mirata, vorrei andare mirata per, in particolare ho una camera, insomma, fanno una specie di preparazione come gli uomini prima di andare allo spazio, quindi che servirebbe a Naomi sul motorio, insomma. Sostanzialmente la bambina migliora le sue capacità motorie? Migliora le capacità motorie se si lavora sul motorio, migliora le capacità cognitive se si lavora sul cognitivo, così come, insomma, la deglutizione, insomma, si lavora su tutto. Che cosa si augura oggi lei per Naomi? Per Naomi mi auguro, non voglio pensare troppo in grande, troppo in là, quindi su quello che arriva, allora tu lo aspetti e arriva, lo cogli come miracolo.